Cambia pelle e seno alto, per un seno tutto naturale, più sodo più alto, sicuro cadei. Grande fratello è tornato, con una casa lussuosa, una splendida discarica, un'altra disperata, e un bel gruppo di concorrenti. Ma due di loro sono già finiti in nomination. Michele, facciamo così, non mi ricordo il nome. Gabriella. Ho preso il primo che mi è capitato. Per scegliere chi vuoi eliminare, telefona o invia un sms al 48421. Grande fratello, prima eliminazione, altri ingressi nella casa, nuove nomination e incredibili sorprese. Domani alle 21.10 su Canale 5. Mandale un sms, Silvana Sbarello per te. S.M.S. a 6 centesimi. Verso tutti, per sempre. Per F.I.S.N.N.N.N.N.N. N. Hai scritto tutto questo messaggio? Scusalo. E' scemo, non hai inserito il T9. Da Wind. E' un bel bambino, la mamma lo stava allattando E come sta? Tutto a posto, aveva il nasino chiuso ma con qualche goccia di libenar si è liberato E' una buona soluzione, un rimedio semplice per il naso chiuso Ora dorme che è una meraviglia Dottore, senta Veramente sono solo un neocopà Libenar, una buona soluzione per liberare il naso Sono dispositivi medici Via! Sì? Non mi piacciono le verdure Dunque, non ti piacciono le carote, i broccoli e gli spinaci E la zuppa di coccodrillo? Nove verdure scelte nel passato tradizionale Knorr Buonissimo il tuo coccodrillo Knorr, ti adoro Scopri anche le altre ricette Knorr Nissan Note Incredibilmente spaziosa E su Note DCI Nissan moltiplica gli incentivi statali fino a 2400 euro di vantaggi A cosa pensi, amore? Che è stato stupendo Anche per me Ti adoro Sei un uomo meraviglioso Vieni qui Fatti pagiare ancora Sei così bella Mi fai morire? Aspetta, mi è caduto un orecchino Accendo un momento la luce C'è un posto dove quello che senti non ti delude mai Radio Kiss Kiss Tieni accesa l'immaginazione Ho imparato a riconoscere il carico risparmiando fino al 30% delle risorse Sono la tecnologia Sesto Senso Whirlpool, sensing the difference Quasi quasi mi faccio un uricchio Oh oh Prendi un uricchio C'è più gusto Il Grande Fratello 7 Ritorna in diretta esclusiva 24 ore al giorno Solo sul Digitale Terrestre Premium È facile entrare nel mondo di Mediaset Premium Basta un decoder digitale terrestre Collegato alla TV come un normale videoregistratore E una tessera ricaricabile Mediaset Premium Niente parabola Niente abbonamento Da gennaio Il Grande Fratello 7 In diretta 24 ore al giorno È solo Su Premium Buongiorno Ci è stata segnalata un'attività irregolare Possiamo entrare? Certo Ragazzi Abbiamo sbagliato caso Ma Qui è tutto regolare Conosci i fiocchi All Brain? Certo Vita intensa e un'alimentazione non equilibrata Possono creare irregolarità I fiocchi di All Brain Con il 15% di pura fibra di frumento Agiscono delicatamente Per aiutarti a mantenere il ritmo naturale Così si sta sempre in regola Buoni All Brain Fiocchi All Brain Fiocchi Tettatet con Alessia Fabiani Massimo Boldi e la sua nuova fiamma Flavia Chi è in edicola? Non parlate per favore Devo capire dove sono E ora E' un po' di contro Perché li dobbiamo maltrappare così? Che fisichetto Che fisichetto Hai capito? Gigi D'Alessio Oh l'ha detto! A chi toccherà? Scherzi a parte Scherzi a parte Venerdì alle 21.10 Su Canale 5